Il grande valore aggiunto per un agente immobiliare è sicuramente la formazione. Melita Roggio, ben trovata. Piacere, ciao. Parliamo di un aspetto, come dicevo, secondo me fondamentale per la conoscenza del settore, per la competenza professionale e anche poi la credibilità che crea tutto questo. In realtà la formazione è alla base del nostro lavoro. Noi lavoriamo in un mercato che è tendenzialmente molto variabile. Se sei formato, se sei a conoscenza, se sei aggiornato sul cambiamento delle leggi, sul cambiamento di tutto quello che riguarda il nostro mondo, hai possibilità, più possibilità di aiutare i tuoi clienti, sia gli acquirenti che i venditori. Naturalmente la formazione è proprio fondamentale perché riesce ad essere credibile, ma riesce anche ad adattarti meglio al mercato. Noi siamo sempre in evoluzione, il mercato è in evoluzione e con lui cerchiamo noi di stare sempre al passo. Ecco, in merito proprio a tutto questo, proprio la conformità, la chiamiamo così, legale, no? In un'Italia che cambia spesso leggi, in una burocrazia che rallenta spesso tutto, è importantissimo, credo, avere un agente immobiliare che conosca a mena dito qualsiasi cosa. È vero che i dipartimenti di Remax Platinum aiutano, Tecnoplatinum, su tutti, però quanto è importante per la vostra formazione essere sempre lì sul pezzo. Certo, è importantissimo perché leggere già subito quando il cliente o vai a fare la visita di sopralluogo o quando il cliente gli dà i documenti, leggere e capire e tracciare un percorso di quelle che sono le cose che si devono cambiare o sistemare a livello legale e a livello naturalmente, diciamo, tutto quello che è amministrativo, che è legale per quanto riguarda e sapere anche, se sai leggere i documenti, sai anche a chi ti devi rivolgere. Quindi perdi meno tempo, hai la possibilità di essere più, di dare anche al cliente, la sensazione di affidarsi ad una persona che sa quello che sta dicendo. Quindi, per concludere, dobbiamo dire che quella della formazione è un investimento per un investimento immobiliare da fare assolutamente, per migliorare tutto e migliorare se stessi e anche per una prospettiva, secondo me, anche di carriera. Certo, certo, è fondamentale. Chiuderei dicendo che la formazione è alla base per un agente immobiliare che desidera dare un servizio ai clienti, essere sempre al passo con quelle che sono le leggi, ma soprattutto anche per una gestione di tempo, per non far perdere tempo a nessuno, né agli acquirenti né ai venditori. Grazie, grazie per essere stata con noi, Merita Roggio, in poche parole competenza, futuro e prospettiva. Questo passa anche dalla grande formazione dell'agente immobiliare, questo è quello che consegna Remax Platinum.